Il più cordiale benvenuto a questa edizione del GR. Piazza 2 migliorate, soprattutto una nuova scuola da 6 milioni di euro. Sono i progetti in arrivo a Porto Potenza, affrontati l'altra sera in un incontro con i residenti. Il sindaco Francesco Acquaroli ha spiegato al pubblico presente le novità per la piazza principale, in modo da renderla sempre più utilizzabile e punto di riferimento per i cittadini e i turisti. E poi la nuova scuola, che quando sarà realizzata costituirà un fiore all'occhiello per la città, senza dimenticare l'impegno preso dal presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, di realizzare finalmente il casello dell'A14 a Porto Potenza, offrendo così un sicuro punto di appoggio per lo sviluppo del turismo locale. Ascoltiamo Francesco Acquaroli in questa nostra intervista. Abbiamo pensato di correggere la piazza, riproporla in quel tratto per come era tanti anni fa, permettendo così anche in quella zona di posizionare il palco per gli eventi estivi e permettendo così anche una passeggiata per come era stata concepita prima di questa progettazione. Dentro l'estate del prossimo anno saranno consegnati i lavori di adeguamento sismico della scuola media di Porto Potenza di Chiena. Entro qualche giorno sarà consegnata la progettazione della scuola del Rosario di Porto Potenza. Vogliamo una scuola che sia un punto di riferimento per la città, ma anche e soprattutto che sia un orgoglio. Il cadavere di una donna è stato recuperato in contrada a Pianarucci, a Torrentino. A dare l'allarme sulla presenza del corpo in avanzato stato di decomposizione, è stato ieri pomeriggio un muratore che passando in zona ha fatto una sosta in quell'area. Dopo aver sentito un forte odore, si è avvicinato alla scarpata e ha fatto la macabra scoperta. Quindi ha subito allertato i carabinieri. Vista l'ora tardi e l'assenza di luce, le operazioni di recupero della Salma sono state rinviate a questa mattina, lasciando lì però un presidio dei carabinieri. Si attende l'autopsia ed è probabile che venga effettuato l'esame del DNA. Incidente con il trattore all'Oropiceno coinvolti padre e figlio. I due viaggiavano sul mezzo ieri nel primo pomeriggio in località Salzaro-Ete quando a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia il trattore si è ribaltato. Alla guida c'era Pietro Miconi, 82 anni del luogo, al suo fianco il figlio quarantenne. Per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Rimasto nella cabina è stato schiacciato nell'impatto a terra. Il figlio invece è stato sbalzato fuori ed ha riportato alcuni traumi e quindi è stato ricoverato all'ospedale. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118. Lunedì prossimo il sindaco di Macerata Romano Carancini e l'assessore all'urbanistica Paola Casoni saranno a Brescia per firmare la convenzione con la presidenza del Consiglio dei Ministri che consentirà al comune di Macerata di beneficiare del finanziamento previsto dal Piano Nazionale per la riqualificazione delle aree urbane degradate riservato al progetto Quartiere Don Bosco presentato dall'amministrazione nel 2015. La cerimonia si svolgerà a Brescia, prima città della graduatoria nazionale di 451 progetti di cui 45 ammessi a finanziamento nella quale Macerata si è classificata al decimo posto. I due milioni di euro riconosciuti dal Consiglio dei Ministri a Macerata comprendono il progetto di recupero dell'ex GIL e degli ex Capannoni Rossini dove potranno lavorare start-up di giovani. Per il diciannovesimo compleanno delle Valdichienti di Piediripa sono in programma domani una serie di iniziative nel pomeriggio. Lo storico centro commerciale di Macerata propone momenti ludici, musicali ma con un risvolto sociale. Infatti al classico taglio della torta si accompagnerà l'iniziativa di raccolta fondi a favore di Muccia, centro particolarmente ferito dal terremoto. Per l'occasione ci sarà anche il sindaco e poi diversi ospiti dallo chef Andrea Mainardi che proporrà uno show cooking coinvolgente alla showgirl Giulia Salemi. Ascoltiamo il direttore del Valdichienti Gianluca Tittarelli. Il Valdichienti nella sua gestione è stato sempre improntato a rivolgersi al territorio. Per questo anniversario abbiamo pensato bene di non dimenticare quello che è successo più o meno un anno fa. Per questo motivo noi abbiamo pensato di attivare una raccolta fondi a favore del Comune di Muccia, anche qui abbiamo preferito andare diretto. Quindi sottolineo che tutti i fondi che domani saranno raccolti saranno pubblicamente poi resi all'amministrazione comunale di Muccia fino all'ultimo centesimo. Al di là di questo aspetto noi avremo una maxi torta che sarà preparata già appunto da quell'ora in galleria dai membri dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Saranno con noi gli studenti dell'Istituto Alberghiero Varnelli di Cimboli. Domani ci sembra importante esserci. Macerata è presente nell'Atlante ufficiale dei Cammini d'Italia realizzato dalla MIBACT che mappa 41 delle più belle vie verdi italiane 6.600 chilometri da scoprire a piedi, in bicicletta e a cavallo. Sono stati selezionati 41 percorsi in tutta Italia scelti dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali tra quelli proposti dalle regioni secondo 11 criteri di ammissione. Dalla fruibilità dei percorsi ai servizi di alloggio e ristorazione selezionati nel rispetto di standard internazionali. Il numero 31 è la Via Lauretana, l'antico percorso di pellegrinaggio che unisce Assisi a Loreto e che passa per Macerata. L'Atlante è online nel sito del Ministero camminiditalia.it un modo nuovo per incentivare il turismo lento. Lo sferisterio di Macerata è tra i soggetti che hanno collaborato alla stesura della nuova legge di riordino del settore dello spettacolo approvata definitivamente mercoledì pomeriggio. L'arena maceratese ha svolto una grande parte attiva nell'IT e ha portato avanti dall'On. Irene Manzi, segretario della Commissione Permanente Settima Cultura. Nella riforma ci sono numerosi elementi che influiranno direttamente sulla programmazione artistica maceratese, oltre ad incrementare sensibilmente le risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo, con fondi pari a più 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019 e a più 22,5 milioni di euro a decorrere dal 2020, sono stati confermati 4 milioni di euro per attività culturali nei settori colpiti dal sisma del centro Italia del 2016. Terminati i lavori sulla provinciale tolentino e a San Severino. Conclusa la messa in sicurezza, il rifacimento dei tappetini di una delle arterie più importanti della provincia. era uno degli obiettivi dell'amministrazione provinciale di Macerat. Infatti la arteria che collega due dei più importanti comprensori della vallata del Chienti e del Potenza, oggi dopo il completamento della superstrada e soprattutto ancora più a seguito del sisma, è diventata essenziale. Per la realizzazione dell'opera sono stati fatti due distinti lotti con due appalti e sono stati spesi più di 600 mila euro. Una quota delle risorse utilizzate proviene dalle sanzioni combinate dal comune di San Severino, che per legge ed in parte deve assegnarle alla provincia. Lo sport La Cucine Lube Civitanova torna a giocare di fronte ai propri tifosi. Per la seconda volta in questa stagione di Superlega, dopo la sontuosa vittoria ottenuta domenica scorsa al Palapanini di Modena, avversario di turno la Biosi Indexa Sora, attuale fanalino di coda. Massima attenzione in campo, però per evitare passi falsi e continuare a mostrare i progressi in attesa di un fine 2017 ricco di impegni. Le due formazioni si incontrano in Superlega per la terza volta in assoluto nella loro storia. Le prime due sfide tra Cucine Lube Civitanova e Biosi Indexa Sora risalgono infatti alla regular season dello scorso campionato, doppia vittoria per i cucinieri. Nel decimo turno di andata della Serie 2 Unipol-Sai, la Golden Plast Potenza Piccena scende in campo in Salento per sfidare a Tricase i padroni di casa dell'Aurispa Alessano nel posticipo del Girone Bianco in programma domenica 12 novembre 2017 alle 19.30. È la decima volta che le due squadre si affrontano. Cristofaletti e Bucciarelli troveranno sul fronte opposto un ex compagno, il martello Enrico Lazzaretto, che fino a pochi mesi fa vestiva la casacca bianca azzurra. In classifica la Golden Plast Potenza Piccena reduce del successo interno in 4 set con Massa e quinta a Braccetto con Santa Croce. Medea Macerata pronta al primo derby stagionale in trasferta domenica 12 novembre alle 17.00. Non un derby qualunque, visto che ad attendere Capitan Casoli e compagni c'è la Sampres Nova Loreto dell'ex romano Giannini, un amico che la Medea stavolta incontrerà da avversario alla guida di una squadra neopromossa che ha mostrato fin qui un'ottima palla a volo. Un avversario che finora ha fatto bene e che non possiamo permetterci di prendere sotto gamba. Sostiene coach Adrian Pablo Pasquali. Il tempo nelle marche. Domani avremoci lo sereno poco nuvoloso tendente ad un aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Venti da deboli a moderati sud-occidentali, temperature lieve aumento, mare da poco mosso a mosso. Ed è tutto per questa edizione, condotta in studio da Roberta Foresi e Marco Morosini. Grazie per l'ascolto. Giornale Radio Nuova